La mediazione vincente l'ha portata a termine Franco Iacucci, per Oliverio ancora una volta l'uomo della provvidenza, ha lavorato ai fianchi su Mario Chiuto finché lo ha costretto a capitolare e a dare il via libera all'accordo di programma per la costruzione della metrotranvia. Del resto, le richieste del sindaco erano tutt'altro che impossibili da soddisfare, giusto qualche limatura qua e là, più nella forma che nella sostanza, finché vi sia la certezza della realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modifiche richieste dall'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi. Per suggellare l'interesse, la regione si appresta a consegnare ufficialmente al Comune di Cosenza il Palazzo Aterp con largo anticipo rispetto ai tempi programmati, dove, come noto, dovrà sorgere il Museo di Alarico e la fatidica firma potrebbe essere apposta proprio in quella circostanza oppure nel Comune di Cosenza. Sarebbe disposto a fermarlo in Comune l'accordo in Comune di Cosenza? Dappertutto l'accordo, perché poi si realizza l'opera. Non abbiamo mai avuto problemi di questa natura. Noi abbiamo solo un obiettivo, realizzare le opere, realizzare le opere che sono nell'interesse della comunità. Io credo che c'è un tempo per le campagne elettorali e poi c'è un tempo per governare ed affrontare i problemi. E nel tempo dedicato ad affrontare i problemi, a governare, chi ha una responsabilità di governo deve spogliarsi da magliette, da appartenenze, con l'occasione deve essere proiettato interamente su questo.